Anche il Molise è coinvolto nel fenomeno della fuga di studenti universitari che trovano lavoro fuori regione. Quattro studenti su dieci lasciano il Molise per andare a studiare al centro-nord. Lo certifica la Svimez, che fotografa dati non incoraggianti. La fuga contribuisce ancora di più ad impoverire il sud, causando una perdita di poco meno di mezzo punto di pillo.